Com'è cambiata la tua vita dopo Miss Italia? Sicuramente è stato un anno bellissimo, quindi mi ha portato tanto, mi ha fatto crescere, però io sono rimasta sempre la stessa. E ora vediamo cosa mi porta al futuro. E adesso cosa vorresti fare? Sicuramente vorrei intraprendere una strada nel mondo dello spettacolo, quindi iniziare un corso di licitazioni a settembre e rimanere anche nel campo della moda, perché comunque studio anche moda, quindi mi piacerebbe intraprendere queste due strade. Cosa consiglieresti alla prossima Miss Italia? Di viversi al meglio questa esperienza, di rimanere se stessa, perché questo anno se lo possono godere una donna all'anno e quindi davvero di viversi questo anno da Miss Italia, perché è veramente bello.